Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora oggi arrivo sul pacco dell'Avon, della campagna 6 che ho diviso con la mia amica lei ha preso le sue cose per i suoi clienti o le cose per i miei clienti perché diciamo che per ora è un periodo che facciamo così io ho già due cose che le ho già consegnate, che erano della campagna 6 ed era uno spresso in odi dell'Avon Kids, praticamente quello dei bambini dei bambini che veniva in combo con un... lei ha preso un pettine, molto molto carino il pettine mi è piaciuto tantissimo, grande, bello e venivano 8 e 2, 7 euro e 40 adesso vi faccio vedere i... come si chiamano? i cataloghi cartaceo allora mi sono arrivati i campioncini, i campioncini di rossetti che mi hanno regalato loro cioè la mia amica così mi ha detto, così vi dico anche di profeta e poi mi ha ordinato lei tre cataloghi della campagna 8 molto molto bella, che inizia il 20 luglio poi tre cataloghi della campagna 7 che questa diciamo è quella che è in corso poi c'è un outlet che non so, mi sa che è per noi poi un catalogo un supplemento catalogo 7 e 8 e l'anteprima bene adesso iniziamo con i prodotti della 6 allora, mi hanno ordinato queste scarpe molto molto belle e queste le ho prese sono quelle che stavano a 15,99 e sono molto molto carine sono nere io non so ragazzi mi dovete dire voi se è un tipo cioè se sono invernali oppure no però vi posso dire allora, questo è 40 però vi posso dire che è proprio calza giusta giusta quindi non so il perché mi ho detto ma sembravano strette però no le calze hanno proprio giusti giusti non sono appunto strette ecco, queste cose del genere sono stra stra belle perché hanno moltissimi glitter quindi mi dovete dire se sono invernali oppure no perché a me sembrano invernali visto che sono di camoscia però vi dico ragazzi cioè sul piede non lo so cioè sono proprio quel tipo di scarpe che piacciono a me adesso invece vi faccio vedere un altro paio di scarpe queste però me le regalate mio fratello li trovate sul catalogo 19,90 e sono queste bianche sono molto molto carine vedete dietro hanno la particolarità che sono argentate poi qui ci sono le tre strisce rosse strisce rossa nera, bianca e argento sono molto molto belle sono comodissime anche questa è la misura 40 perché vi posso dire che è veramente perfetta come misura adesso posso diciamo capire che quando magari dove prendere qualche paio di scarpe prenderò la misura 40 poi è arrivato un altro paio di scarpe sempre misura 40 e queste sono le ballerine che sono troppo troppo belle e vi posso assicurare che proprio sulla pianta del cioè non si sentono completamente sono morbidissime a me sembravano una cioffetta dal catalogo invece vi posso dire che sono bellissime proprio sul piede cioè non sono tante enormi sono belle e sono in questo motivo qua sono belle perché sono anche traspiranti perché ce l'ho tipo tutti questi buchetti e cose del genere e dietro hanno questa suola in gomma comunque a me mi piacciono un casino comunque mi sono innamorata di questi tre paio poi vi faccio vedere altri prodotti che sono arrivata adesso passiamo ai prodotti allora allora la cliente ha preso due creme queste da 400 ml che sono a 7,50 euro due creme queste da 400 ml che sono sia per viso corpo e mani e sono uno al burro di carità no burro di cacao e moltiazione burro di cacao vitamina E e questo invece al cocco al cocco questo è bellissimo l'ho presa un'altra cliente per il viso e si è trovata bene poi c'era l'offerta che potevate prendere due prodotti per i capelli a 7,90 euro e la cliente mi ha scelto due oli questi per i capelli questo 7 in 1 per punte diciamo che ti ripara i 7 danni praticamente quindi idrata e anticrespo poi rende i capelli super morbidi è uno dei miei preferiti poi mi è arrivata la maschera di planet spa questa ottima ed è quella che c'era tempo 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 fa ed è quella ai sali minerali del marmotto questa è bellissima ragazzi vi purifica un botto la pelle cioè proprio vera strastra purifica e poi infine diciamo della campagna 4 mi sono arrivati 4 smalti allora uno è i cosmic flush che sono quelli della linea gel shine questo doveva arrivare la volta scorsa però non è arrivato e questi stavano 2,99 veramente un bel colore questo poi mi è arrivato il very berry che questo è carino anche già questa cliente diciamo che è la prima volta che me l'ha ordinato quindi cioè non è la prima volta appunto che me l'ordina poi c'è il roses are red che è appunto un rosso molto molto bello cioè il rosso classico praticamente e poi niente c'è un top coat praticamente che è quello diciamo che non fa schiaggiare che lo fa durare di più quindi non viene e questi sono 2,99 mi sa che l'ho detto adesso invece passiamo alla campagna 5 perché c'erano soltanto 3 cose che mi hanno ordinato allora io ho ordinato 2 di Orolon uno far away bellissimo perché io in estate devo usare per forza 2 Orolon e poi ho preso un incandescent che stavano 1,99 euro questi poi invece una cliente nuova ha preso della linea mark il primer praticamente per il viso cercava l'altro primer quello della new perché lei si trova bene con quello però quello non c'era e poi l'ho trovata in offerta però vabbè aveva preso già questo io questo l'avevo provato tempo fa però l'hanno cambiato diciamo la confezione quindi non so se è lo stesso prodotto e adesso invece passiamo alle anteprime perché ho preso soltanto 2 cosine sia dell'anteprime della 7 che della 8 l'anteprime della 7 è questa di qua che è quella diciamo in corso ho preso un'anteprima cioè più che preso io mi ha detto la mia amica che lo davano loro non lo so però a me non piace come profumazione credo che lo venderò praticamente questo profumo che si chiama Peach and Love Attitude che è un detroit spray costa 7 euro e 99 ed ha 50 ml di prodotto lo trovate a pagina 83 83 e si presenta così con questa confezione super super fashion veramente c'è pesce e loco quindi è il simbolo allora la confezione è bellissima a me il profumo non piace quindi io non lo so sembra carino però ho tanti profumi quindi preferisco venderlo e raccimolare qualcosina è bello bello cioè la fragranza la bottiglia è figa e vi dico subito le note perché non me l'ho detto allora bergamotto fiori d'arancio e muschio ecco per esempio sembrerebbe uno delle mie cioè delle note tipo fiori d'arancio e muschio che mi piace solo che il fatto che sono note grumante quindi non è che piacciono tanto poi ho preso uno shampoo che è uno shampoo nuovo si chiama shampoo per capelli biondi oppure con colpi di sole allora praticamente è questo è lo shampoo viola che io cercavo da un casino di tempo allora questo shampoo io lo cercavo da un casino di tempo e finalmente Ramone è uscito ed è uno shampoo per i capelli biondi oppure con i colpi di sole quindi a che serve se il vostro biondo si sta ossidando volete dare una radiosità revitalizzata al vostro biondo questo fa il caso vostro contribuisce a eliminare i toni giallastri che è quello che mi servirebbe a me e dona ai capelli un aspetto luminoso dona settosità morbidezza e lucentezza come applicarlo massaggiare sui capelli delicatamente per un minuto fino a formare una ricca schiuma quindi sciacquare è un prodotto di cialalta pigmentazione quindi si macchieranno un casino di cose quindi bisogna fare attenzione a 400 ml di di